Polemiche nel Partito Democratico dopo il varo delle liste per le prossime elezioni. Il segretario Dem eletta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, mentre Carlo Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano. Lotti escluso accusa la direzione di nascondersi dietro a scuse vigliacche. Tra i candidati anche il virologo Andrea Crisanti, capolista nella circoscrizione Europa. Caustico il commento del leader leghista Salvini, ora si capiscono tante cose. Fino alle 22 di oggi sono aperte le urne virtuali delle parlamentarie dei 5 Stelle. Anche qui non sono mancati malumori. Giuseppe Conte punta al collegio della Camera del Lazio tra i 15 nomi suggeriti dal presidente del Movimento, l'ex procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, l'ex PM antimafia di Palermo Scarpinato, ma anche Chiara Appendino e Stefano Patuanelli. Berlusconi torna a definire i confini dell'alleanza di centrodestra. Mai al governo con chi non è leale all'Europa e all'Occidente. La nostra coalizione è lontana dai populisti di altri paesi, spiega il presidente di Forza Italia. Poi Berlusconi torna ad attaccare il Partito Democratico per avere stretto un'alleanza con l'estrema sinistra che ha votato contro l'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia. Da Mosca nuovo pesante attacco di Putin che accusa gli Stati Uniti di volere prolungare il conflitto in Ucraina e di usare gli ucraini come carne da cannone. Sul campo continuano i combattimenti e sale la tensione per la visita degli ispettori della IEA alla centrale nucleare di Zaporigia. Per il calcio le vittorie del Napoli a Verona e della Juventus in casa contro il Sassuolo hanno completato il programma della prima giornata del campionato di Serie A. Ancora successi nel nuoto azzurro agli europei di Roma con il trionfo di Simona Quadrella nella finale dei 1500 stile libero. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. Dunque depositati i simboli dei partiti che partecipano al voto a questo punto si affacciano i nomi e i cognomi di quello che sono i candidati frutto di scelte difficili e complesse perché c'è stata come noto una riforma costituzionale che ne ha ridotto sensibilmente il numero. Allora cominciamo proprio dal Partito Democratico che in tarda notte ha comunicato quanto deciso finora dalla direzione. Volevo ricandidare tutti gli uscenti ma era impossibile. Potevo imporre i miei ma ho cercato di comporre un equilibrio perché il partito è comunità. I giochi non sono ancora conclusi. L'appuntamento per le liste definitive è per domenica lunedì ma il segretario Letta, prossimo capolista alla Camera in Lombardia e Veneto prova già a far opera di contenimento. Che nel PD stessi andando in scena una grande battaglia sui promossi e bocciati lo si era capito già ieri con i quattro rinvii della direzione inizialmente prevista per le 11 di mattina e infine aperta solo le 11 di sera. Per la conferma è bastato aspettare poi non solo la mancata unanimità tre contrari e cinque gli astenuti ma soprattutto la mancata partecipazione della corrente di base riformista guidata dal ministro Guerini quella rimasta più vicina a Matteo Renzi con ciliegina finale sulla torta filmata direttamente dall'escluso Luca Lotti già autosospeso dal partito a seguito degli incontri clandestini con Palamara e altri magistrati per il CSM. La scelta è politica non si nasconda nessuno dietro le scuse vigliacche dichiara ora destino condiviso forse quello dell'esclusione con Monica Cirinna e da quel che si può capire col costituzionalista Stefano Ceccanti confidente forse in un posto migliore nell'istino proporzionale leggo con stupore dalle agenzie che sarei candidato numero 4 al proporzionale a Firenze Pisa dice la notizia è destituita di qualsiasi fondamento come ben sa il segretario Letta domani spiegherò nel dettaglio Veleni e Mugugni resi inevitabile dalla strizzata parlamentare da sondaggi ben poco ottimistici per il PD sul versante uninominale essendo pochi quelli blindati logico che decisivi continuino ad essere le poltrone in prima fila nel proporzionale a Carlo Cottarelli al Senato a Milano si aggiungono ora a sorpresa il virologo Andrea Crisanti capolista nella circoscrizione Europa Emma Bonino al Senato Roma Centro dove si ritroverà di fronte l'ex compagno di strada Calenda il ministro Speranza a Napoli alla Camera l'altro ministro Franceschini nella stessa città al Senato e Pierferdinando Casini alla nona legislatura confermato a Bologna bilanciato da quattro capilista under 35 ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni ha detto Letta mi ha pesato tantissimo quattro anni fa epoca Renzi cioè il metodo di chi faceva le liste era faccio tutto da solo io ho cercato di comporre un equilibrio e il rispetto dei territori è stato tra i criteri fondanti delle scelte con replica del diretto interessato a me pare che dalla scelta di come costruire la coalizione ai nomi delle liste la guida di Enrico Letta si sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere così tanto per far capire che la partita tra i due non è affatto finita si sa il momento molto meno dei nomi dei candidati nella coalizione di centrotestra del resto mancano ancora alcuni giorni alla definizione necessaria dunque sicuramente dopo il discorso di Giorgia Meloni la leader di Fratelli d'Italia in tre lingue oggi Silvio Berlusconi il leader di Forza Italia rassicura dal sito online di formazione politico sulla vocazione atlantista ed europeista della coalizione di cui fa parte il centrodestra italiano non ha nulla a che spartire con l'estrema destra europea Silvio Berlusconi prende le distanze dai populisti che hanno successo dice in altri paesi dell'Unione noi ma anche i nostri alleati rivendica il leader azzurro in un'intervista a politico.eu siamo un centrodestra europeo occidentale e atlantico che ha come riferimento unico la democrazia liberale il governo Draghi è caduto per le ambiguità del PD e per il comportamento irresponsabile del Movimento 5 Stelle spiega ancora il Cavaliere offrendo la sua versione della crisi politica che ha portato al voto anticipato avremmo preferito che l'esecutivo Draghi potesse continuare fino alla fine naturale della legislatura e che si andasse a votare nella primavera del 2023 aggiunge Berlusconi ma non è stato possibile e quindi non è rimasta altra soluzione che ridare la parola al popolo sovrano che non è un male dopo le polemiche sul presidenzialismo Berlusconi torna a definire i confini dell'alleanza di centrodestra in vista del voto del 25 settembre mai al governo con chi non è leale all'Europa e all'Occidente non parteciperei ad una maggioranza se non fossi sicuro della correttezza democratica e del senso di responsabilità di tutti i nostri alleati spiega il presidente di Forza Italia che poi torna ad attaccare i Dem è il partito democratico non certo noi che ha appena stretto un'alleanza con l'estrema sinistra che ha votato contro l'allargamento della Nato a Svezia e Finlandia chiusa la partita dei simboli si apre quella delle candidature che vanno presentate tra il 20 e il 21 agosto il centrodestra gioca ancora a carte coperte nella Lega tutto era stato rinviato a dopoferragosto in settimana Umberto Bossi sentirà Salvini ma dal partito hanno già fatto sapere che per lui la candidatura è a disposizione alla Camera e non più al Senato quasi certa quella di Giulia Buongiorno mentre il leader del Carroccio attacca il PD per la candidatura del virologo Andrea Crisanti tra i volti noti in tv durante la pandemia ora si capiscono tante cose scrive Salvini su Twitter il diretto interessato non manca di criticarlo gli errori fatti dal segretario della Lega la replica immediata di Crisanti sono garanzia di quelli che farà al governo Fratelli d'Italia punterebbe a confermare tutti gli uccenti tra le new entry circolano i nomi del ministro Giulio Tremonti e del PM Carlo Nordio tra gli azzurri si danno per certe le presenze in vista del coordinatore italiani di Marta Fascina compagna di Berlusconi e si scommette su Valentina Vezzali passata di recente a Forza Italia e sul presidente della Lazio Lotito diversa la dinamica nel Movimento 5 Stelle dove per la scelta dei candidati si continua ad affidare al voto online degli attivisti urne virtuali aperte fino alle 22 per gli attivisti del Movimento 5 Stelle che oggi saranno chiamati a scegliere i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato nell'area di voto oltre alle due schede delle autocandidature anche quella relativa al listino proposto da Giuseppe Conte che ha rinunciato a mettere il suo nome nel simbolo come non avrebbe gradito Beppe Grillo e in un video postato sui social ieri sera ha chiamato alle urne i militanti avevamo promesso che il nuovo corso sarebbe stato caratterizzato da una grande apertura alla società civile e così è stato l'ha detto l'avvocato del popolo che corre nel Lazio per un seggio a Montecitorio tra i 15 nomi suggeriti da Conte c'è l'ex procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao l'ex PM del pool antimafia di Palermo Roberto Scarpinato ma anche l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino e il ministro uscente Stefano Patuonelli presenti anche i vice di Conte Gubitosa Ricciardi Todde e Turco completano il listino la capogruppo al senato Madonina Castellone l'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa il senatore Ettore Liccheri e il capogruppo alla camera Francesco Silvestri nomi in pole position anche tra gli autocandidati la scelta degli uomini del presidente aveva creato più di un mal di pancia dentro il movimento e tra gli attivisti col rischio che quel listino potesse lasciare le briciole a tutti gli altri nomi da scegliere in mezzo alle 2000 candidature pervenute visto anche il calo dei consensi abbinato al taglio dei parlamentari Scegliamo i nostri parlamentari nei listini liberi e aperti dove tutti partono dalla stessa linea di partenza le liste bloccate lasciamole alla Meloni o a Letta ha scritto oggi sui social il senatore Danilo Toninelli alle 12.45 hanno votato oltre 20.000 persone su 130.000 iscritti e nonostante diversi attacchi hacker le misure di sicurezza hanno funzionato ci dice l'amministratore delegato di SkyVot Giovanni Di Sotto i risultati saranno comunicati domani dunque dopo il 25 settembre si comincerà a capire a chi sarà affidata la grandissima responsabilità di governare l'Italia in una fase storica molto molto complicata dunque affrontiamo quello che sono le notizie dall'estero questa mattina il presidente russo Vladimir Putin ha fatto molte affermazioni nel corso di una conferenza da Mosca puntando diretto contro gli Stati Uniti d'America accusati di volere prolungare il conflitto in Ucraina e di volere in generale destabilizzare il mondo e qui il riferimento è a quanto avvenuto negli ultimi giorni a Taiwan Il mondo secondo Vladimir Putin il presidente russo spiega che cosa sta accadendo non solo in Ucraina ma nelle strategie globali delle superpotenze Washington dice cerca di destabilizzare il pianeta e lo ha fatto con la visita della speaker della camera Nancy Pelosi a Taiwan l'obiettivo sottolinea il presidente russo è creare una situazione da guerra fredda e la rinascita di un sistema di contenimento lungo il confini russo e cinese che va dalla NATO fino alle alleanze militari asiatiche e del Pacifico Secondo Putin la storia si ripete all'epoca gli Stati Uniti ebbero successo perché Mosca scelse la strada sbagliata quella di chiudersi in se stessa in un blocco che credeva compatto ed invece si è rivelato fragile oggi abbiamo imparato la lezione non ci chiuderemo più ed il contenimento non funzionerà non è un caso infatti che proprio ieri il presidente russo abbia offerto le proprie armi più moderne a tutti coloro che vogliono comprarle ai paesi aveva detto con i quali abbiamo legami in America Latina in Asia in Africa alleati che apprezziamo o che nei giorni scorsi abbiamo andato una lettera a Kim Jong-un con la quale rinsaldare rapporti già buoni con la Corea del Nord attraverso il porto di Vladivostok da tempo la Russia permette al dittatore coreano di minimizzare l'impatto delle sanzioni internazionali soprattutto da qui l'appoggio russo alle pulsioni espansioniste della Cina su Taiwan e lo sforzo di Mosca di recuperare tutti i territori perduti con lo sfaldamento dell'Unione Sovietica la Cecenia una parte della Georgia e la Crimea tutte azioni senza una risposta efficace da parte dell'Occidente la musica cambia con l'Ucraina vicino all'Europa e dalla Nato l'Occidente usa l'Ucraina come carne da cannone dice infatti oggi il presidente russo l'obiettivo è testare Mosca e impantanarla in una guerra nella quale per ora non si vede la fine ed indebolirla con le sanzioni una strategia che Putin conosce che ha un punto debole lo scemare dell'impegno degli alleati di Kiev con il tempo ecco il senso di quel passo dopo passo detto ieri per spiegare come la Russia intende strappare il Donbass all'Ucraina con pazienza in questo contesto non è affatto irrelevante la presenza in Ucraina della più grande centrale nucleare d'Europa in caso di un'emergenza la centrale nucleare ucraina di Zaporizia occupata dalle forze russe dovrebbero essere evacuate almeno 400.000 persone e l'allarme è lanciato da Aleksandr Staruk amministratore militare della regione Staruk spiega che 200.000 arriverebbero dall'oblast di Zaporizia e altrettante da quello di Dnipo-Vedrosk la situazione a Enerodar la città che ospita la centrale è considerata pericolosa aggiunge l'ufficiale il piano di evacuazione della popolazione civile e della zona a rischio di contaminazione da radiazione è in fase preparatoria tenendo conto dei recenti sviluppi militari infatti nella regione continuano gli attacchi alle città di Nikopol Maranez e nella notte a Kharkiv che mettono a rischio la sicurezza della popolazione tanto da ipotizzare il rischio di un disastro nucleare Zaporizia è la centrale più grande d'Europa i suoi seriattori si affacciano sulle acque del fiume Dnipro il corso d'acqua che collega la Russia a Kiev è la vicina città di Chernobyl tristemente famosa per l'incidente del 1986 l'impianto atomico di Enerodar è stato tra i primi obiettivi presi di mira dai russi è infatti subito conquistato ai primi di marzo pochi giorni dopo l'avvio del conflitto da allora le truppe di Mosca controllano la centrale e tutto il territorio intorno anche se le truppe di Kiev stanno provando a riconquistare terreno ma di fatto Mosca e Kiev si accusano l'una con l'altra di usare l'impianto come scudo per coprire le rispettive operazioni militari in questo risico che sfida la sicurezza d'Europa l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU chiede di intervenire sul campo per verificare la situazione una richiesta che sta provocando un nuovo scontro tra diplomazie dopo aver mostrato una certa disponibilità all'ispezione del sito da parte della IEA senza particolari condizioni oggi l'Agenzia TASS citando Igor Wisniewski alto funzionario del Ministero degli Esteri precisa che qualsiasi missione di verifica della sicurezza della centrale non può coincidere con l'abbandono del sito da parte delle truppe russe come richiesto da Kiev insomma l'appello per la fine delle attività militari intorno alla centrale rivolto dal segretario generale ONU Antonio Gutierrez alle parti in guerra rischia ancora una volta di cadere nel vuoto ora dobbiamo segnalare il nuovo record in termini assoluti del debito pubblico italiano che a giugno ha toccato quota 2776,4 miliardi secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia l'aumento mensile è stato di 11,2 miliardi con una crescita dall'inizio dell'anno dell'1,9% per andare più nel dettaglio il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 12,5 miliardi mentre quello delle amministrazioni locali è diminuito di 1,3 e infine il debito degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato ora parliamo della cronaca giudiziaria di un fatto che risale a qualche giorno fa ma di cui adesso solo si conoscono i dettagli un crimine razzista ai danni di un uomo un operaio digeriano la bici sottratta con la forza e buttata con disprezzo sui binari della stazione di Carnate Monza-Brianza poi insulti e minacce vogliamo ammazzarti perché sei nero si vede tutto in questo video privo di audio postato tra le storie di Instagram un vanto da mostrare ai follower i fatti risalgono al 10 agosto due noti trapper Jordan e Traffic insultano di continuo un operaio nigeriano di 41 anni appena sceso dal treno era a fine turno dopo una giornata di lavoro Traffic a torso nudo mostra il coltello all'immigrato e lo insulterebbe ancora come raccontato dall'operaio ai carabinieri negro negro cosa ci guardi ce l'hai con noi sempre Traffic sfoga la sua rabbia squarciando le gomme della bici l'altro Jordan filma tutto minuti terribili poi i due trapper sono saliti su un treno per Monza la vittima scatta delle foto con il suo cellulare e denuncia l'accaduto ai carabinieri il giorno dopo l'undici mattina i due trapper sono stati fermati dai militari mentre camminavano liberamente nel vicino comune di Bernareggio avevano in tasca ancora i coltelli a Serramanico probabilmente gli stessi utilizzati per minacciare l'operaio l'arresto è stato convalidato ieri dopo l'interrogatorio in carcere Jordan Jeffrey Baby 25 anni trapper Brian Solo e il collega romano Traffic 26enne non sono solo noti nell'ambito della musica che producono hanno precedenti ma questa volta le accuse gravi rapina in concorso aggravata dall'uso delle armi e della discriminazione razziale Jordan Tinti nel 2020 è stato sottoposto a sorveglianza speciale era evidente il suo disprezzo per le forze dell'ordine e personaggi televisivi famosi Jeffrey Baby era il nuovo cazzo di Reggio raga il 23 fuori cazzo di White Socks tengo cocaina nelle socks questi gesti salti e sputi sulle auto dei carabinieri avevano sollevato polemiche forti con Salvini e Meloni che lo avevano attaccato Gianmarco Farà nome d'arte traffic invece era stato condannato nel 2021 dal tribunale di Novara con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della sua ex fidanzata e per aver violato il suo domicilio oltre che per resistenza a pubblico ufficiale ti riduco una frittata negro Ecco cambiamo proprio pianeta per parlare di Piero Angela da questa mattina alle 11.30 è aperta a Roma in Campidoglio la camera ardente ecco potete vedere le immagini il giornalista divulgatore scientifico morto tre giorni fa all'età di 93 anni ad accoglierlo accanto ai familiari il sindaco di Roma Roberto Gualtieri i vertici della RAI colleghi, amici persone comuni che hanno voluto dare l'ultimo saluto al padre di Quark questa sera intorno alle 19 saranno dunque celebrati funerali con cerimonia laica come disposto dallo stesso Piero Angela siamo arrivati alle notizie sportive agli europei di nuoto di Roma letteralmente dominati dagli atleti italiani intanto la prima medaglia azzurra anche gli europei di atletica leggera un programma si chiude un altro si apre sempre sotto il segno dell'oro ieri si pario sul nuoto artistico l'Italia è salita sul podio 12 volte in 12 eventi portando al medagliere azzurro quattro medaglie d'oro tutte firmate da Giorgio Minisini un trionfo sportivo ma soprattutto personale per il romano che è cresciuto a pane e sincro grazie alla madre ex atleta e al padre giudice internazionale tanto ha combattuto contro i pregiudizi sul nuoto artistico declinato al maschile preclusioni che Minisini rifiuta su ogni fronte a conclusione degli eventi il pluricampione europeo è tornato in acqua insieme alla atleta paralimpica Arianna Sacripante affetta da sindrome di Down con cui forma un duo dal 2018 con l'oro di Minisini nel duo tech con Lucrezia Ruggero e l'argento delle ragazze del team free si era chiusa la cremessa artistica con un oro si è aperto il volo dei nostri tuffatori nella prova del team event una squadra multietnica formata da Edward Timbretti Andreas Larsen Sara Di Maria e la stella del team la 19enne romana Chiara Pellacani in nazionale da quando aveva 14 anni ma a fare da filo conduttore ai successi azzurri resta sempre il nuoto in vasca ieri altra giornata storica con la terza romana a vestirsi d'oro Simona Quadarella ha fatto gara a sé nei 1500 stile libero che tanta delusione le avevano portato nell'ultimo anno tra Olimpiadi e Mondiali la Quadarella è la prima europea della storia a vincere tre volte sulla distanza tripletta consecutiva come già sugli 800 e ancora possibile anche sui 400 la campionessa romana ha trascinato sul terzo gradino del podio anche la 31enne Martina Caramignoli mentre d'argento in precedenza erano state Martina Carraro nei 200 rana e Thomas Cercon sui 50 d'orso anticipato di soli 4 centesimi dal greco Cristo la classifica per nazioni vede adesso l'Italia davanti a tutti con 34 medaglie di cui 14 d'oro un bottino destinato oggi inesorabilmente ad arricchirsi in acqua tornerà anche Gregorio Paltrinieri nei 1500 alla ricerca del bis dopo l'oro sulla mezza distanza e a proposito di fuoriclasse occhi puntati anche sugli europei di atletica leggera di Monaco stamattina impreziositi dal bronzo di Giupponi nella 35 chilometri di marcia e stasera infiammati dalle nostre due stelle olimpiche Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi per entrambi un appuntamento complesso in pista come in pedana dopo infortuni varie di incertezze tecniche ma la classe dei due campioni a cinque cerchi garantisce emozioni fino all'ultimo centesimo fino all'ultimo centimetro per il calcio le vittorie di Juventus e Napoli hanno chiuso la prima giornata di Serie A mentre proseguono le trattative del mercato nessun pareggio al via del campionato l'ultima volta fu nella stagione 71-72 e bottino pieno per tutte le squadre impegnate in Europa più l'Atalanta la Serie A è scattata senza sorprese una tendenza confermata anche da Juventus e Napoli due delle sette sorelle sulle quali pesavano i maggiori dubbi della vigilia nonostante un avvio di gara balbettante i bianconeri chiamati a riscattare un'annata a mani vuote hanno avuto vita facile contro il Sassuolo scoprendo immediatamente l'intesa della coppia di Maria Vlaovic l'argentino è partito alla grande un gol un assist e sprazzi della sua qualità prima di uscire per un fastidio muscolare che sarà valutato nella giornata di oggi fondamentale il cambio tattico di Allegri il 4-3-3 ha messo nelle condizioni migliori anche Vlaovic autore di una doppietta è la prima volta dal suo ritorno a Torino che il tecnico della Juve vince con tre reti di scarto un sorriso di speranza aspettando il completamento dell'organico con l'arrivo di un regista Paredes del Paris Saint-Germain e di un attaccante il favorito e Depay del Barcellona buone indicazioni anche dal Napoli salutata la generazione che ha sfiorato due volte lo scudetto Spalletti è ripartito dal 5-2 di Verona tra conferme e novità Ossimène non ha perso il vizio del gol Lozzano è stato devastante sulla destra ma il futuro dei partenopei ha un nome impronunciabile Varaschelia è una strada già tracciata appena messo piede in Italia il georgiano ha segnato e fatto segnare Zienlischi positivo pure l'esordio in difesa del coreano Kim mentre lo Botka che insieme a Politano ha infierito sui gialloblu con l'allenatore Cioffi subito in discussione ha dimostrato di avere la personalità e il senso dell'inserimento per non fare rimpiangere il partente Fabian Ruiz il cantiere resta comunque aperto Simeone strappato proprio al Verona e Raspadori per il quale continuano i contatti con il Sassuolo saranno a disposizione di Spalletti in settimana senza dimenticare il prestito di Don Belè dal Tottenham Questo pomeriggio a partire dalle 16.45 la programmazione della nostra rete sarà dedicata al Palio di Siena commentato da Pierluigi Pardo che vedo qui collegato insieme a noi buongiorno Pierluigi allora quale sarà la sfida più incredibile di questa iniziativa? Ciao Adriana è una giornata straordinaria come in occasione del Palio del 2 luglio quello dell'assunta quello di oggi e quello del 16 agosto 10 contrade al via la bellezza di questa piazza io se non vi offendete mi sposterei perché insomma questa piazza regala sempre una vertigine sempre una bellezza assoluta e ogni volta diversa divisa in nove diversi spicchi a ricordare il governo dei nove dalle 16.45 saremo in diretta perché c'è il corteo storico che racconta la storia di identità la tradizione di Siena una città divisa in contrade ma unita da una passione da un profondo senso ovviamente di orgoglio e di appartenenza poi ci sarà la fase della mossa la più decisiva quella difficile strategica tattica quel momento di sospensione di silenzio con le contrade che si stavano con le rivalità ce ne sono tre di coppie di rivali in piazza e questo è un elemento che può incidere sul risultato finale e poi gli 80-90 secondi di adrenalina che porteranno alla vincitrice non corre il Drago che aveva vinto il Palio del 2 luglio ci sono come detto tre rivalità e ci sono delle favorite ma non se ne può parlare se ne può parlare possiamo parlare dicono di no però insomma sembra che Tartuca Chiocciola e Leocorno considerando le monte considerando i barberi abbiano qualcosa in più ma il Palio può regalare ovviamente grandi sorprese lo seguiremo dalle 16.45 dunque lo scopriremo questo pomeriggio anche tutti noi grazie ancora Pierluigi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ritorno vedremo se ci sono degli aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui allora non ci sono aggiornamenti o nuove notizie di rilievo io dunque vi ricordo a partire dalle 16.45 il Palio dell'Assunta a Siena sulla nostra rete vi ringrazio ancora per essere stati con noi e vi do appuntamento a domani arrivederci buon pomeriggio